Buon salve e bentornati su No Mamamazzo, è da molto che non aggiornavo questa playlist di Toys & Unboxing mentre oggi vi ho già sfornato ben tre video, penso che possiate ritenervi sazi come se vi avessi dato un sacco di uova di Pasqua Molto bene, ovviamente, di che stiamo a parlare? Lo vedete già da voi Quindi, questa è la mia collezione di quando ero piccolo, poi anche capirete da come sono conciati dei miei giocattoli dei Ghostbusters, anzi dei The Real Ghostbusters, che è il nome che fu stato dato a questa serie televisiva animata per differenziarsi anche dalla serie tv animata della concorrenza della Filmation, quella col gorilla per intendersi Come potete vedere, io ho ancora i quattro personaggi base, ma anche qui non pensate Solo Egon, Spengler e Winston Zedbor sono di quando ero piccolo, mentre Ray Stance e Peter Winkman li ho riacquistati proprio perché comunque erano davvero conciati male Ma andiamo nel vivo La cosa bella che ho di questi giocattoli è il fatto che ho ancora ogni singolo fantasmino corrispondente Come potete vedere, questi giocattoli non hanno nemmeno gli zaini protonici, tant'è che li ho riforniti con questi piccolissimi della Playmobil così come i mastini infernali sono della Playmobil, poi ci diamo un'occhiata veloce Questo è un Peter Winkman del 1987, al quale io ho pitturato i risvoltini della divisa come nei cartoni, quindi di verde Qua c'è un simbolo dei Ghostbusters praticamente intatto, che è anche uno dei motivi per cui sono riuscito a riacquistare questo prodotto perché se no le stampe sono le prime cose che vanno via se ci si gioca Qui c'è la ricetrasmittente, la tuta nei cartoni chiaramente non mostrava il name tag e ognuno aveva un colore diverso, si sa, nei cartoni per agevolare i bambini e capire i personaggi si agevola molto quei colori, quindi non hanno tutti una divisa del colore come nel film che poi è il colore di Raymond Stance Anche qui vi ho messo in mano una trappola della Playmobil Tanto perché appunto non ho gli zaini protonici originali e trovarli costa un botto Simbolo intatto, viso intatto Divisa del colore esattamente come nel film Anche gli spallacci dello zaino protonico sono verdi come nel film Mentre cintura e stivaletti seguono comunque il verde anziché il nero Ma chi se ne frega, francamente Dicevo che ho conservato i fantasmini originali Ogni prodotto di questi aveva, oltre allo zaino protonico, aveva anche un fantasmino personale Peter aveva questo Andiamo che lo metto un attimo a fuoco Ecco fatto E Ray Stance aveva questo In modo che mano a mano che si continuava la collezione La casa si riempiva di fantasmi Pensate che a una fiera a Londra Una fiera di fumetti a Londra Un Peter Winkman Ancora imballato nella sua confezione originale L'ho visto anche a 600 sterline Pensate un po' Pensate un po' a quello che avete in casa Quanto può valere Se siete interessati a venderlo Ovviamente dovete andare un pochino In posti come ebay Queste cose qua Fondamentalmente Scusate se ho mosso un po' la videocamera Andiamo a Egon Spengler Di cui, ecco, vi dico La testa non è originale È la testa di un'altra serie L'ho messa per lo stesso motivo Perché appunto, come vedete Tutte le stampe, come dicevo Sono le prime che se ne vanno Specie se magari lo si impiastra Con qualche slime E poi lo si pulisce magari con l'alcol Chiaramente le stampe vanno via Il viso era completamente Privo di stampe Non aveva più gli occhiali rossi Non aveva più Nemmeno i capelli Biondi Era quasi tutto Del colore della Della fabbrica Cioè color carne Quindi ho cambiato la testa Gli ho aggiunto Un rilevatore Se notate è il rilevatore del film Non è quello dei cartoni Proprio perché la Playmobil Che ho preso Si ispirava Alla linea del film È molto conciato Le gambe sono molto luse Ho messo io un po' di colla Per farlo quantomeno stare in piedi È molto disintegrato Come vedete Igon aveva questo color verdino Quasi militare Sembra Nel cartone animato Aveva i risvolti Della divisa Erano rosa Ma non ho un pennarello indelebile Rosa Quindi non l'ho pitturato E questo era Igon Spengler Prima di Scusate Prima di passare All'operaio Del team Alla persona che è stata assunta successivamente Ovvero Winston Zeldman Vi faccio vedere un attimino Janine Menlitz Che è la segretaria Che chiaramente non c'era Nella serie originale O forse c'era Ma con la divisa di Ghostbusters Francamente non l'ho mai trovata Questa è proprio Janine Con la gonnellina Da segretaria Era di quella serie Che ci si spaventava In qualche modo Non so Quali giravano le gambe Non lo so La mettiamo vicino A Igon Anche lei gli occhialetti Rotondi A differenza che Che nel cartone animato Che gli aveva Triangolari Però vabbè È giusto per avere anche Il personaggio Finiamo con Winston Zedmore Che aveva Questo colore Della divisa Che io adoravo Che non so definirvi Sembra un È un colore acqua Qualcosa del genere Anche a lui Ho aggiunto uno zaino Protonico Sempre della Playmobil Giusto per non lasciarlo A mani vuote Come vedete Il simbolo è totalmente Sparito Non appena diventerò bravo Con la decalcomania Proverò A riappiccicarglielo Anche qui I risvolti Della divisa Erano rossi Nei cartoni Gli ho ripitturati Il viso Anche qua Sta sparendo Completamente Fortunatamente Avendo i capelli neri Riesco a Togliergli un po' Di calvizie Con l'indelebile Però ecco Whiston era davvero Aveva un colore Spettacolare Mi piace un sacco Come rendeva Purtroppo la testa Incollata A Egon Corrispondeva A questo fantasmino Giallo Che io ho sempre Cercato di pitturare Di verde Per farlo sembrare Slimer Aveva anche Una cosina in testa Che io ho tagliato Ecco lo mettiamo Un attimino qui Mentre a A Egon ho detto vero Mentre a Whiston C'era questo fantasmino Rosso Che mettiamo qui Il vero Uno dei tantissimi Slimer Che vendevano Però era Era sempre Fuori scala Questo era Slimer Che sputava slime Aveva una specie Di zaino protonico Dietro Dove si metteva Lo slime E lo si poteva Far uscire Dalla sua bocca Però E' un pochino Sproporzionato Ve l'ho mostrato Giusto perché Se c'è qualche Appassionato Di Ghostbuster Di questa serie Magari Li interessava Vederlo Passiamo agli ultimi Due fantasmi Questo Francamente Ovviamente non è Della serie Della prima serie Ma ve lo mostro Lo stesso Perché C'era E concludiamo Essendo bianco Sono passati Più di 30 anni Sta diventando Color crema Lo potete vedere Vicino all'auto Che ho invece Ripitturato E ripitturato E ripitturato Più volte Sono attanto così Da fargli un ultimo Restyling Con la vetroresina In modo che Sembri proprio Un'auto Prima di concentrarci Sull'auto Vi mostro Un attimino I mastini infernali Erano In saldo Per un fuoritutto E così ho deciso Di prenderli Per Metterli Nella collezione Dato che sono Un bel pezzo Sono fantastici Sono Sono chiaramente Mobili Ovviamente Sono piccolini Perché sono Della Playmobil Ma Si trovano Molto bene Anche con questi Con questi giocattoli Della Della The Real Ghostbusters Vi mostro Un fantasmino Che era venduto Insieme All'Ecto One All'Ecto Uno O Ecto Mobile E questo fantasmino Era venduto Perché L'Ecto Mobile Aveva un sistema Anche di trazione Di fantasmi Che chiaramente Qui non c'è più Perché è stato distrutto Però Ci tenevo A ricordarvelo Quest'Ecto Uno Tra l'altro Non è la mia Che avevo da piccolo L'ho recuperata Per 20 euro Che è una cifra Onestissima Viste le cifre Che ci sono adesso Su questi prodotti E l'ho un attimino Ristrutturata Come vedete Gli ho dato un tocco Più simile al film Ma non mi ci sono impegnato Parecchio Vorrò impegnarmi un po' di più Al prossimo restyle Gli ho aggiunto una scala Che devo rifare Gli ho aggiunto Le pistole Chiamiamo le pistole Che c'erano sopra Ho pitturato Di un blu più scuro Le sirene Rispetto al vetro Questa linea rossa Invece l'ho tenuta Come nei cartoni animati Per differenziarsi Da quella del film Qui ho aggiunto Il Il fumè dei vetri Qua c'è dell'argento Qua dentro ci dovrebbero essere Delle luci Per accendere Le sirene Ma non le ho mai collegate Questa è ancora L'unica Ala Diciamo Originale Targa Stampata invece Direttamente Dal film Da questo lato C'è il tubo Che va alla benzina Come nel film Il logo No ghost È stato disegnato A mano Dalla persona Che ha venduto L'auto Quindi non me la sono sentita Di Toglierlo Per metterne uno stampato Perché era davvero Fatto bene E questa è la Ecto 1 Del primo film Sorpresa delle sorprese La mia auto La mia Ecto 1 Di quando ero piccolo Però c'è L'ho semplicemente Trasformata Nella mia auto preferita Come vedete La bellezza Dell'Ecto 2 È proprio La sua Il fatto che sia Pacchianissima Ha un sacco Di accessori in più Rispetto all'Ecto 1 Innanzitutto La sirena È totalmente Multicolor Tant'è che ho risolto Stampando la sirena Direttamente dal film E applicandola Sulla sirena Dell'Ecto 1 C'è il logo Anche davanti Ho tenuto l'argento Come nel film C'è la targa Con la statua della libertà Che si rivelerà Molto utile Ai fini della trama Abbiamo la doppia sirena Sopra Abbiamo i tubolari Che sono rossi In questo caso E non gialli Qui ho messo Un po' di colori diversi Abbiamo la parabola Abbiamo questa antenna Che cambia colore Diventa gialla Nel secondo film Abbiamo la scritta A led Che dice Ghostbusters Per essere Assunti Diciamo Siamo tornati C'è tutto il nastro Arancione E nero Sopra le porte Nero e giallo Lungo la fiancata Col logo No Ghost 2 Di Ghostbusters 2 Che io adoro C'è Colas C'è We Believe You Con il numero di telefono C'è sempre il tubolare Blu Per la benzina C'è ancora qui il numero di telefono Qua chiaramente invece le ali Sono state un attimino messe in cartone Dovrò capire come funziona La possibilità di fare Una stampa 3D Anzi se qualcuno volesse Io sono qua Qui dietro abbiamo La bombola del gas Che c'è nel secondo film Con sopra la sirena Un'altra sirena Qua dietro L'altro logo No Ghost L'alettone Rosso Che c'è nel secondo film Con la targa laterale Come nel secondo film Ho cercato di Non c'è più la scala Come nel secondo film Scusate qua Mi è caduto Il L'insegna LED Ho cercato di personalizzarla Il più possibile Per quanto Mi piace appunto Questa versione Della Ecto 1 Un'ultima curiosità Prima di andare In un altro video Di Ghostbusters Dove magari ve lo ricorderò Nel videogioco Del 2009 Ambientato nel 92 E nei fumetti Della IDW Che sono ambientati Successivamente Al videogioco Quindi presumo Un anno dopo Abbiamo una Ecto 1B Ovvero Un mix Tra le due alto Fondamentalmente Mantiene Le strisce Della Ecto 1A I LED Della Ecto 1A Ma ha Il simbolo No Ghost Del primo film E torna a essere Un pochino più bassa Sul tetto Magari vi metto qui Nell'angolino Una foto Un disegno Se lo trovo Bene Con questo è tutto Noi ci vediamo Tra poco Con il prossimo video Per continuare Il festeggiamento Del primo anniversario Del canale YouTube Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E arrivederci